Ciao a tutti, eccoci! Ci siamo lasciati con un ricciole di se non erro Il video prima era un racconto della mia quarantena perché Simo era risultato positivo e adesso, yuppie! Lo so io! Quindi, se non mi seguite su Instagram vi racconto un po' che cosa sta succedendo nelle ultime settimane e un po' di novità che poi in realtà sì, non sono incredibilmente belle queste novità però è giusto condividerle anche con voi, soprattutto qua su YouTube Lo sto facendo spesso su Instagram tramite le stories però capisco bene che non tutti abbiano Instagram e quindi ogni volta mi dite Sì, ma io non ho Instagram, come faccio a sapere qualcosa di te? Non ci aggiorni mai qua su YouTube e quindi vi racconto un po' di cose anche qua Mi sono truccata oggi ed è stato un miracolo perché non mi trucco da tantissimo tempo da prima della quarantena, da prima di risultare positiva e poi ovviamente ho avuto purtroppo il Covid e non mi ha preso benissimo Assimo ha preso meglio e sono stata un po' invidiosa di questo però io non l'ho vissuta, devo dire, come un'influenza normale come tanti dicono Ah vabbè, è solo un'influenza No, non una classica influenza Almeno un'influenza seria di quelle toste Io le ho avute, le influenze nella mia vita Questa era diversa Questa era qualcosa di veramente tanto pesante Mi ricordo soprattutto un giorno in cui non riuscivo a camminare perché mi veniva da svenire ed è stato stranissimo perché mi sono alzata dal letto e proprio non riuscivo a fare due passi che mi girava la testa e quella è stata la giornata un po' più tosta Per il resto in realtà non mi posso lamentare perché sono sempre stata qua a casa e tutto sommato alla fine è andata bene tre giorni di febbre e poi molta spossatezza per il resto poi mi sono ripresa abbastanza Devo dire la verità che ho tantissimo sonno dormo praticamente tutta la notte e tutta la mattina mi sveglio veramente tardissimo un po' devo essere sincera vado a dormire molto tardi quindi ho un po' tutti gli orari sballati però effettivamente dormo tantissimo cioè senza la sveglia io dormirei tutto il giorno tranquillamente quindi mi sento veramente tanto tanto stanca però per il resto sono contenta perché sto bene ed è anche le giornate un po' peggiori sono andate tutto sommato bene non le ho superate ecco non è stato niente di davvero davvero tragico ho avuto la febbre come vi dicevo di notte ho avuto un sacco di incubi ma è una cosa che almeno a me capita sempre quando la febbre è soprattutto un po' più alta di una classica influenza di solito si tipo a 38 inizio proprio ad avere tantissimi tantissimi incubi di notte e questo vabbè ve lo sto raccontando un po' per raccontarvi queste giornate, queste settimane sono da sola perché Simo è andato in Repubblica cieca per lavoro e inizialmente era molto indeciso se partire oppure no perché aveva paura di lasciarmi da sola temeva un po' che io stessi male però gli ho detto che giustamente era lavoro e doveva andare e tanto povero anzi sarebbe stato più brutto secondo me stare in una casa quarantenato cioè è stato meglio per lui secondo me e tanto io avevo cose da fare quando poi mi sono sentita meglio ho iniziato a essere anche più di umore positivo e anzi io fino a poco tempo fa pensavo di uscire negativa dal rapido che ho fatto perché dopo quanti giorni? dopo dieci giorni, undici, mi ha chiamato la ASL strano ma vero perché di solito la ASL adesso almeno ha un sacco di casi ha un sacco veramente di chiamate da fare ed è difficile che ti chiamino e soprattutto hanno fatto la cosa di poter uscire con un rapido da una quarantena proprio perché il molecolare era davvero difficile da ottenere a meno che tu non rieschi ad andare ad un drive-thru però c'è sempre bisogno almeno io vi parlo di tutte queste cose ma so che ogni regione ha sé quindi io vi parlo della Liguria che è dove abito a Genova e quindi questa è la prassi della Liguria fatto sta che con il drive-thru è più semplice ovviamente perché basta prendere appuntamento la ASL deve farlo e tu ti presenti con la tua macchina e sei tranquillo Simo ha fatto questo quindi dopo dieci giorni di quarantena l'hanno chiamato al mattino e gli hanno prenotato subito il molecolare in drive-thru purtroppo a me è capitato dopo dieci giorni sono venuti a casa gentilissimi mi hanno detto cosa vuoi fare? vuoi prenotarti un rapido nei prossimi giorni? allora contate che era domenica oppure veniamo noi oggi e te lo facciamo io avevo già contattato il giorno prima, sabato tutte le farmacie della mia zona chiedendo se c'era posto se si poteva fare un rapido l'unica farmacia che mi ha risposto è stata una abbastanza vicina a casa mia che però aveva posto solo martedì quindi dopo due giorni allora quando ho chiamato la ASL ho fatto due calcoli ho detto ma secondo me è meglio se venite voi da una parte perché dovrei avere risultato prima di riuscire a ottenere il rapido in farmacia perché il risultato te lo danno in 24 ore circa e quindi lunedì sarei stata libera purtroppo è stato incredibile perché mi hanno chiamato la ASL alle nove più o meno e alle dieci e quaranta erano già qua mi hanno fatto il tampone io pensavo fosse mio papà che doveva venire alle undici a portarmi la focaccia a lasciarla fuori dalla porta e invece era la ASL le due dottoresse veramente bravissime e poi di sera era tipo le otto le nove mi è arrivato il risultato tramite il cellulare prima messaggio poi sono andata sul sito con le credenziali ho fatto accesso e alla fine risultato positivo io speravo ero quasi certa di essere negativa perché tre sere prima ho fatto un rapido a casa tra l'altro infilandolo proprio per bene girando bene tre volte in una narice tre volte nell'altra ed era uscito negativo quindi io ero quasi certa di essere negativa e invece no è uscito positivo il molecolare neanche debolmente positivo cosa che ho detto vabbè magari è più probabile che esca debolmente positivo rispetto a positivo e invece purtroppo no e quindi mi tocca fare secondo la mia dottoressa altri dieci giorni speriamo di no perché al ventunesimo giorno in realtà si è liberi anche senza un tampone però l'asol mi aveva detto che mi avrebbero richiamato dopo sette giorni se fosse stato positivo l'esito niente quindi io devo stare altri sette giorni no adesso dai è martedì quando vedete questo video sarà martedì quindi ancora cinque giorni e quindi dai se penso così è poco però devo dire che quando ho ricevuto l'esito c'era un po' rimasta così perché avevo un po' di cose da fare cose importanti durante la settimana che avevo lasciato e avevo appuntato comunque perché speravo proprio di essere negativa e di poter uscire da casa questa è la mia situazione attuale se non mi vedete tanto qua anzi non mi avete vista in questi giorni è per questo motivo però dato che adesso sto bene sono di umore anche positivo anche la mia faccia è migliorata devo dire che durante soprattutto i giorni un po' più stressanti avevo una faccia raga che mi spaventavo sempre ogni volta che mettevo le stories però è giusto anche metterle perché sono io chi se ne frega stavo malino e quindi sapete che non mi importa chissà quanto cosa realmente fastidiosa è che ho perso olfatto e gusto questo è capitato il giorno 9 l'ho guardato per curiosità tra l'altro grazie alle stories sono risalita al giorno esatto perché ve l'ho raccontato subito nelle stories ed è stato tutto d'un botto cioè prima sapevo tu cioè sapevo avevo il gusto avevo l'olfatto sentivo tutto a un certo punto basta questo è un po' fastidioso perché i giorni seguenti non riuscivo a mangiare niente perché ero completamente inappetente e poi non riuscivo neanche a sentire il gusto non sentivo gli odori e avevo un po' di nausea mi avete consigliato di sniffare qualsiasi cosa sì termine proprio un po' sbagliato però per dire sentire gli odori e tanti odori diversi perché questo dovrebbe aiutare a recuperarlo prima e infatti sto cercando di farlo ogni volta che ho in mano qualcosa di molto odoroso come non so cosa ho utilizzato come dei prodotti per il viso profumi vari ho utilizzato tipo il napisan però cioè già i prodotti della pulizia io non mi fido tanto perché è un attimo intossicarsi quindi non lo farei mai tipo per ore con l'alcol o altre altre cose per la pulizia però le altre cose che non dovrebbero fare male le odoro tutte quindi speriamo che questo aiuti davvero questa settimana dato che sono qua sola con tanta voglia di fare voglio iniziare a fare più video su youtube cosa che avevo fatto prima della quarantena di simo poi la quarantena di simo un po' scombussolato tutto e adesso sono tranquilla e rinizierò con i riccioli di con tutti i vari video classici il primo video che voglio fare tra l'altro sarà sicuramente i top del 2021 perché è un video a cui tengo tantissimo un video che secondo me può risultare utile molto utile anzi a tanti e quindi quello sarà un video che uscirà forse proprio direttamente domani quindi per questo ricciole di voglio fare anche il video sulle unghie perché oggi vi ho fatto vedere su instagram le mie unghie dicendo che effettivamente erano un po' troppo lunghe e dovrei tagliarle ve le faccio vedere meglio eccole qua voglio cambiare anche la forma perché mi sembrano un po' troppo squadrate per i miei gusti e quindi farò anche un video su questo raccontandovi come faccio a tenerle così lunghe come faccio a mantenerle così lunghe a farle crescere eccetera eccetera e spero di avervi tenuto compagnia con questo video vi ho raccontato un po' di mie disavventure però devo dire che voi siete stati dei tesori su instagram mi tenete un sacco di compagnia mi scrivete tantissime cose carinissime mi dispiace solo per i miei perché mi dispiace per i miei perché sono abbastanza un peso per la spesa ma sono davvero dei tesori mi portano tutto e ogni giorno mi lasciano cose con voi dalla porta soprattutto mi avete scritto in tantissimi su instagram che anche a voi è capitata la stessa cosa che anche voi state facendo una quarantena infinita quindi io vi abbraccio e vi capisco benissimo vi capisco proprio bene e niente spero di non risultare lamentosa in questo video perché era semplicemente per raccontarvi cose e raccontarvi cosa mi è capitato e per darvi anche una motivazione della mia assenza adesso torno tranquilla e vi racconto tutto e vi do un sacco di tips su unghie capelli come al solito io vi abbraccio se siete arrivati fino a qua commentate con l'emoji l'emoji con la mascherina così io capisco che siete arrivati fino a qua poi è in tema con l'argomento del video di oggi quindi direi che è perfetto a presto